Per geografia utilizzeremo un'altra app di Google. La sfortuna è che qui questa app non c'è. Dobbiamo scrivere un indirizzo che è mymaps.google.com. Che cos'è mymaps? È l'evoluzione di Google Maps che voi conoscerete. Google Maps serve a vedere delle mappe, dei luoghi del mondo visti dall'alto dalle mappe. In mymaps posso andare a personalizzare le mappe di Google Maps. Allora, cosa devo fare dentro mymaps? Devo creare una nuova mappa. Vedrete che si apre la schermata molto simile a quella di Google Maps normale, però abbiamo delle funzioni in più. Qual è il tema della mappa che dovete fare? Vi ricordate che un giorno vi ho detto cercate di adottare un fiume? Ecco, adesso questo fiume dovete farcelo vedere. Io ho adottato il tagliamento. Qui dove è scritto mappa senza titolo vado a mettere il titolo della mia mappa che riguarda il fiume tagliamento. Poi andremo a cercare questo fiume. Per la maggior parte dei fiumi se scrivo tagliamento lo trovo e cliccandoci sopra la mappa si ingrandisce in automatico e mi fa vedere dove si trova un punto del fiume tagliamento. Perché ovviamente il fiume è lungo. Cosa dobbiamo fare noi? Dobbiamo andare a indicare tre cose del fiume tagliamento. In questo caso ognuno avrà il suo. La prima cosa, forse qualcuno ha già intuito cosa sto facendo, è andare a cercare la sorgente del fiume. Naturalmente quando sta per sfociare verso il mare il fiume è un po' più grossino. Anzi, nel caso del tagliamento il letto è più largo dalla parte centrale. Ma se io risalgo, stando attento di seguire il percorso giusto, perché se scelgo questa biforcazione vado in un altro fiume che si chiama Fella, strano che non compaia mai la scritta, ma invece compare per fortuna la scritta del tagliamento. Quindi devo continuare a percorrere il fiume tagliamento trascinando la mia mappa fino ad arrivare alla sua sorgente. A un certo punto il fiume diventa sempre più sottile. Nel caso del tagliamento molto vicino al confine con il Veneto c'è la sorgente. Vedo che qui non c'è più fiume, quindi probabilmente lì sarà la sorgente. Cosa devo fare nella sorgente? Devo indicarla con un segnaposto. Scelgo questo strumento segnaposto, metto la crocetta dove devo metterlo e scrivo sorgente. Salvo e ho messo la sorgente del fiume. Ora devo fare la stessa cosa con la foce del fiume. La foce è di solito più semplice da trovare perché i fiumi o qualche volta sfociano in un lago o si mettono in un altro fiume più grande o nella maggior parte dei casi, se c'è fiumi grandi, andranno a sfociare nel mare. Forse sapete anche che il fiume tagliamento ha la foce al confine tra Lignano Sabbiadoro e Bibione. Faccio la stessa cosa, ho preso il segnaposto, ho indicato il punto e scrivo foce. Ho preparato due punti che sono la frugente e la foce del mio fiume tagliamento, che rimangono belli evidenti quando guardo la mia mappa, la mappa personalizzata del tagliamento che ho fatto. Ora devo fare la parte più difficile, sarà un po' una sfida, cercare con una linea, che è l'altro strumento che posso utilizzare con Google My Maps, di percorrere tutto il corso del fiume. Allora scelgo questa icona qui, faccio aggiungi linea o forma e ogni volta parto dalla sorgente, clicco, mi viene questa linea retta naturalmente, che non posso con una sola linea retta fare tutto il corso del fiume. Devo cercare di avvicinarmi il più possibile alle varie curve, ai vari meandri che fa il fiume. Quindi, per esempio, potrei fare il primo pezzetto fino qui. Una volta che clicco, posso andare avanti e continuare con altri pezzettini. Ogni volta che clicco, posso fare una piccola curva. Ora non serve che siamo così precisi come sono stato io nella prima parte. Cerchiamo più o meno di seguire il corso del fiume, anche perché è lungo e ogni volta che ho bisogno, devo andare a spostare la mappa e andare un po' più in là, fino a quando magari il fiume rimane circa dritto. Poi ci fa una bella curva questo fiume, ho tagliato molto qui, magari se siete più precisi voi meglio. Adesso vado giù e continuo. Se ho qualche problema, posso interrompere il mio lavoro. Come faccio a interrompere il mio lavoro? O anche se sono arrivato alla foce, premendo il tasto invio sul computer. Premendo il tasto invio, la linea si conclude lì dove ho deciso e scriverò corso del fiume o corso, anche soltanto, come volete, corso del fiume. E la salvo. Però direte voi, prof, non ha mica finito tutto il lavoro, la foce è ancora molto lontana. Se io torno sull'ultimo pallino e clicco il tasto destro, ho due opzioni. Elimina punto, che va benissimo quando ho fatto un errore. Se un punto non va bene, posso andare a eliminare qualsiasi punto. Se vado, adesso ho fatto un po' una stupidaggine, vediamo se si può fare, ecco, si può fare a nulla con la freccia indietro, così si fa un errore e si è cancellato troppo, si può riprendere il lavoro. E poi dall'ultimo puntino, se clicco col tasto destro, posso fare estendilinea. Estendilinea vuol dire che riprendo il mio lavoro. Quindi vado giù, vado giù, ora un po', ricordate se ne ho posto verde, ho fatto Google Maps, che secondo lui è il tagliamento circa verso l'ultima parte, in questo caso, del corso. Vado avanti con il mio lavoro. Voi servirà naturalmente zoomare spesso per vedere se siamo ancora sul fiume corretto. E arrivo in fondo. Quando ho finito, vi ricordate, premo il tasto invio sulla tastiera del computer e il nome l'avevo già dato, l'avevo chiamato Corso del Fiume. Ecco, il mio lavoro è circa concluso. Vedete che ho fatto la sorgente, la foce e tutto il percorso del fiume. Posso andare a personalizzare, se voglio, un pochettino quello che ho fatto. Adesso, guardate qui, mi compagno la sorgente, foce e Corso del Fiume, potrei andare con questa icona a forma di secchiello a decidere che voglio la linea di un colore diverso e magari la voglio anche più spessa. Così si vede bene il Corso del Fiume. Poi, magari voglio cambiare la foce, voglio mettere un altro colore e magari scelgo anche un'altra icona. Non so, scelgo questa che sembra il bar alla fine del mio lungo percorso, sono arrivato a riposarmi al bar. Ok? Potete giocare con questa cosa, ma è importante che ci sia la sorgente, la foce e la luce. Non so, scelgo questa cosa, ma è un'altra icona.